Nella cornice del tennis club nisseno si è svolto il primo torneo di beneficenza stop alla violenza organizzato dallo stesso club insieme al comitato nisseno della Croce Rossa italiana per raccogliere fondi e sostenere così il progetto dalla tua parte che punta alla creazione di una struttura dedicata alle donne vittime di violenza per accoglierle e contribuire alla riconquista della loro autonomia. La nostra idea, mia del consiglio direttivo e della nostra referente avvocato Federica Laverde è quella di creare una struttura che possa servire per l'intera collettività non solo nissena per tutelare e proteggere donne vittime di violenza. Oggi il tennis club ci ha dato assieme ad altri sponsor la possibilità di organizzare questo torneo e i fondi saranno investiti, raccolti e gestiti proprio per questa finalità benefica. Il comitato nisseno della Croce Rossa si occupa già di assistenza nei confronti delle vittime di abusi attraverso gli sportelli di ascolto e non solo ma l'obiettivo è quello di creare una struttura locale per la quale già da qualche mese è stata avviata anche una raccolta fondi che prosegue attraverso la presenza di Salvadanai in alcuni esercizi commerciali. Fra qualche giorno ne faremo l'apertura per vedere i fondi che sono stati raccolti e vedere quando la nostra cittadinanza è stata sensibile al progetto. È importante perché le strutture attualmente presenti non sono sufficienti a poter gestire un fenomeno che comunque è molto radicato e purtroppo ancora oggi spesso non viene denunciato da parte delle donne proprio per paura, per paura di essere portate poi in case che sono fuori dal loro territorio o in struttura addirittura in altre regioni d'Italia. Quello che noi vogliamo fare è proprio questo, garantire alle donne del territorio una struttura protetta, una struttura dove poter essere accudite, dove poter essere protette e soprattutto difese e reinserite nuovamente in un circuito economico e sociale qualora dovessero essere tolte totalmente alla loro vita precedente alle molestie subite. Le condizioni meteo incerte non hanno influito sulla buona riuscita dell'evento che ha accolto nel corso della mattinata circa 200 persone tra pubblico e giocatori. Abbiamo coniugato un'esigenza sociale di lanciare un messaggio forte alla cittadinanza e comunque alla comunità della violenza sulle donne quindi il torneo è proprio da un chiaro imperativo stop alla violenza coniugato con lo sport dove ci sono delle regole di fair play soprattutto nel tennis riusciamo a in qualche modo dare questo messaggio che per noi è molto importante come circolo di tennis siamo molto aperti a queste manifestazioni ringrazio Federica Laverde che ci ha aiutato nella realizzazione di questo evento e la Croce Rossa che ha supportato e che supporta questa iniziativa noi come Tennis Club siamo sempre disponibili a questo tipo di eventi proprio per lanciare un messaggio chiaro e forte senza compromessi senza se e senza ma la violenza di genere e comunque la violenza in generale ed è assolutamente una piaga che va combattuta e bisogna assolutamente parlarne